3! 3! 3 skip luminosi! Signore e signori, benvenuti in quello che sarà uno dei mega box opening più grossi che voi abbiate mai visto nell'ultimo mese o nell'ultimo anno probabilmente Infatti benvenuti in un nuovissimo video di Brawl Stars! Guardate questo feto signori, 299 gemme per 20 mega casse, 20 mega box ragazzi sono tantissime e oggi ragazzi ne scioperemo un bel po' Infatti come sapete io posseggo almeno 80 account e no tranquilli cioè per le mie finanze non posso prenderle da 80 account differenti Ma quello che faremo sarà prendere più di 100 mega case d'account differenti Non so quante potremmo anche sforare perché a volte mi parte proprio il box opening compulsivo Quindi andando con calma ne aprirò minimo 100 e vediamo quanti brawler riuscirò a trovare Scrivete adesso qui sotto nei commenti secondo voi quanti skip luminosi e quanti nuovi brawler riuscirò a sbloccare quest'oggi Quindi inizio subitissimo a prendermi le prime 360 gemme per l'offerta da 300 La cosa migliore raga oltretutto è che c'è anche un'offerta che dà una cassa gratis con scritto ritira Quindi ragazzi ritiriamo questa mega box quindi 1 più 20 sarà 21 per ogni account Signori è subito skip luminoso let's go Allora vi lascio in alto a qui a sinistra il counter dei brawler trovati Quindi via con il primo brawler trovato andiamo Oh mio dio Raga stavo morendo Iniziamo così il video Raga stiamo iniziando così il video sbloccando un leggendario Raga è un meme Oh cavolo Raga qua dovete lasciare like Qua dovete lasciare like a un vero king dei box opening Dalla cassa gratis leggendario Raga guardate c'è è un account tipo appena aperto una roba del genere leggendario Mamma mia mamma mia E adesso apriamoci le altre 20 mega box Signori non ci sto credendo Vediamo vediamo quello che ci può uscire da questo account Quindi primo brawler trovato ragazzi Alto skip luminoso ed è un super raro Siamo a quota 2 brawler trovati Let's go Mamma mia oggi mamma mia oggi Nuovo brawler non ci credo Pure bombardino Terzo brawler trovato Ok ragazzi Allora 100 mega casse Ho preso 7 skip Ma che è sto account doppio skip luminoso Rosa Ok quarto brawler trovato Eh che bello Quinto brawler trovato ragazzi E vabbè e vabbè E cappellino Cappellino del king sia Cappellino del king ragazzi Quinto brawler trovato Non ci sto credendo Oggi 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 raga non ci sto credendo Siamo già a 5 brawler trovati Chi ha detto che ne trovavo tipo meno di 5 Ha già perso Ed è il primo account in cui spacchetto signori Allora nel primo account ci sono quindi 21 mega casse Solo che ne avanzano comunque tipo 60 gemme E ho visto che nel negozio c'è una mega cassa a 60 gemmettine Quindi quella comunque è un'offerta La posso prendere Perché comunque me li vado ad esaurire i vari account Per aprire più mega box possibile E fare una super copertina all'inizio ovviamente raga Ok allora Questo account si è spremuto all'inizio tantissimo 5 brawler Uno dopo l'altro senza proprio alcun senso Tra super rari Rari Leggendario E anche cromatico C'è davvero tanta tanta roba Ok questo potremmo oggi fare un record eh Altro brawler Altro brawler signori Vediamo Oh epico Ah 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 Anche l'epico Sesto brawler Sesto brawler Non ci so Crede un altro ancora Un altro brawler Che cos'è? No pure il mitico Pure il mitico Settimo brawler Settimo Settimo brawler Nelle prime 20 mega casse Cioè è non così Leggendario Mitico Epico Cromatico Super Tutti abbiamo trovati Abbiamo trovato uno di ogni rarità Oh cavolo Sette brawler Ragazzi Nelle prime 20 mega casse Guardate Uno Almeno uno Per ogni rarità Abbiamo trovato Wow Wow ragazzi Non ho parole E come detto Qui nel negozio Ci dovrebbe essere Anche eccola L'offerta della mega casse Quindi arriviamo A 22 Mega box C'è un altro brawler C'è un altro brawler Let's go Oh mio dio Un altro mitico Oh mio dio Un altro mitico Ragazzi Siamo a quota 8 brawler Due mitici Un epico Un leggendario Un super raro E due rari Oh mamma mia Oggi svengo La magliettina rossa Con il cappello del king Raga Qua sta portando Una fortuna Assurda Mi dispiace Quasi Uscire da questo account Perché a quanto pare Era pieno di roba Secondo account Ragazzi Quota 22 Casse già aperte E quota 8 brawler Sbloccati Let's go Andiamo avanti Con la mega cassa Quella gratuita Perfetto 5 skip Nessun nuovo brawler Ma non fa niente Ragazzi Ne abbiamo altre E 20 Anche qui Ho visto che c'è L'offerta Quella lì Con 60 gemme Una cassa Quindi anche da questo account Prenderemo 22 casse In totale Raga 100 Mega box Equivalgono A 8000 gemme Quindi è un box Opering Da 8000 gemme C'è davvero 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 Tante Praticamente Un Cos'è 500 euro Una roba del genere No no 400 euro Dovebbe essere Cioè Nella realtà Poi in realtà Non sono 400 euro E noi stiamo Per trovare Il nostro Nono brawler 3 2 1 Let's go No vabbè Un altro epico Ma oggi Oggi raga Oggi stiamo Letteralmente Dando i numeri Nono brawler Trovato Credo C'è un altro C'è il counter Penso che molto Rapidamente Perderò il conto Perché sto prendo Un sacco Un sacco Di mega casse E ho iniziato Con un leggendario Quindi la testa Sta proprio Da un'altra parte Che è una cosa Impossibile da fare Su un account Tipo con 4 brawler Trovi un leggendario Vabbè Vabbè raga Cioè se volete Un po' Della mia fortuna Ragazzi Iscrivetevi al canale E anzi 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 Ragazzi Un salutone A Che si è iscritto Al mio canale E lo ha scritto Nei commenti Quindi un grande saluto Benvenuto in famiglia Let's go Con il nostro Decimo brawler 3 2 1 Vai Non ci sto credendo Quello che trovo Non ci sto credendo Cioè Cioè No vabbè Rarità altissima Alta 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 Ragazzi È assurdo È assurdo Quello che ci sta dando Brawl Stars In questi due account Ma siamo ancora All'inizio Ragazzi Potremmo trovare Roba ancora Più pesante Non è vero Perché abbiamo già trovato Spike Un leggendario Di quelli Iper amati Cioè Nella top 3 Cioè Spike Corvo Leon Sono i primi E sono anche Secondo me Tra i più amati In assoluto Con Proprio Super mega Caratterizzati Come personaggi Si continua 5 schippettini Niente di che Ok Nell'altro account Ci aveva già riempito Molto molto di più Rispetto in questo qui Ma comunque qui Un epico E un cromatico Di tutto rispetto Lolegrom Davvero tanta roba Signori 20 mega casse Non sono poche Chissà se Brawl Stars Si ricorda Che già in altri account Ci ha già dato Altri brawler Ma ragazzi Qui andiamo verso Il nostro Undicesimo Brawler 3 2 1 Andiamo E un altro Epico Ma oggi Che cos'è Che cos'è Un altro epico Undicesimo Brawler Altro epico Signori Mi prendo anche La mega Cassa Questa qui 5 skip Niente di che Molto molto Meno potente Questo account Di quello di prima Ma ragazzi Guardate Io c'ho ancora Ok I rari Li ho tutti Si Mi mancano I super rari Mi sa che mancano 1 2 3 Ah no 5 Ecco perché Perché avevo Già Tutti i radii Super aria Ok Ok Allora ci sta Ci sta Ci sta tantissimo Credo 44 megacasse Aperte 44 Tipo gatti Ok Anche qui C'è l'offerta 60 gemme Per la megacassa Quindi anche da qui Altre 22 megacasse Prima quella Gratis Signori Ok Niente in questa qui Va bene C'è la partenza Proprio del primo account Non si può Emulare Non si può ripetere Perché è davvero Troppo A livello Troppo alto Troppo troppo alto Siamo a 11 o 12 brawler Raga me ne sono Praticamente dimenticato Non lo so 11 o 12 Vabbè Voi avete il counter Appunto In editing Per questa ragione Signori 4 skip Quindi schifus Schifus totale Ragazzi Dai 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 Dammi brawler Il mio record E tipo 14 o 15 Brawler In un box opening Quindi dobbiamo superare Quel numero Signori Abbiamo un sacco di possibilità Perché siamo adesso A 44 Dopo questo Questo account Saremo a 66 Quindi comunque Abbiamo ancora Altre A minimo 40 megacasse Perché ho detto Che come minimo Arriveremo A 100 100 100 megabox Siamo al dodicesimo Brawler Signori Dodicesimo brawler Cromatico Ti adoro Signor Lu Si è sbloccata La situazione Let's go Let's go Altro brawler Pocho Ok Anche i rari Sono dei brawler Tredicesimo 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 brawler Signori Cioè io ho sbloccato Lu Prima di Pocho Immaginatevi di aprire Un account E sbloccare Lu Prima di Pocho Cioè questa roba È totalmente Baggata Ragazzi Io col cappellino Baggo il sistema Baggo il sistema Ragazzi Come faccio Non lo so Non lo so È un super potere Qualcuno Mi fermi Vi prego Ah quanto adoro Queste offerte Che mi permettono Di sbizzarirmi Nelle casse Ragazzi Proprio che finisco I video E faccio Ah Che bello Che liberazione Altro brawler Siamo a Quota Quattordici Brawler Tre Due Uno Let's go Con un super raro Che oggi Ne stiamo trovando Davvero pochi Di super rari Ok Quindi cromatico Raro Super raro E poi il quindicesimo Brawler Chi è Chi è Un altro leggendario Un altro leggendario No No raga Un altro leggendario Ma oggi Ma oggi Che sta succedendo Oggi Che c'è Nell'aria C'è Ah C'è sapore di fortuna Signori Un altro leggendario Un altro No vabbè Vabbè Non ci credo Non ci credo Raga Non ci credo Qualcuno Qualcuno Spammi questo video Nell'Olimpo Ragazzi Vedete condividere Questo video Perché porta fortuna Cioè voi dovreste vederlo Prima Vi svegliate A colazione Ogni colazione Della vostra vita Dovreste vedere Questo video Perché vi porterà Fortuna Fidatevi Fidatevi Cioè state Capendo Quello che stiamo trovando Altra mega cassa Qui Signori Mamma mia Siamo a quota Quanto 15 o 16 Brawler Una roba del genere 66 mega cassa Aperte Andiamo verso Le 88 Signori Let's go Subito Sette skip Non ci credo Non ci credo Non ci credo Se siamo a 15 o 16 Brawler Non mi ricordo Ragazzi Facciamo che siamo a 15 Perché mi tengo Basto Perché tanto Adesso Ne sbloccheremo Altre due Cioè in realtà Non so se Tre 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 skip Luminosi Oh mio dio Raga Oh mio dio Qua sfondiamo Qualsiasi record Qualsiasi record Anche rosa Quindi 15 16 17 7 E infine 18 Signori 18 18 Nuovi Brawler O 19 Perché magari Ho perso il conto Quindi non sono Quelli che penso io No Qui non c'è la cassa Mannaggia 18 19 Signori E qui si continua Con altre 20 Mega casse Mamma mia Ragazzi Oggi Oggi Sblocchiamo Qualsiasi cosa Io sblocco Anche mia nonna Cioè proprio Voglio che esca Il brawler Mia nonna Che mi dice Basta Spacchettare Figlio mio Quante le stai ad aprire Ragazzi Mamma mia Immaginatevi In una sola giornata Nell'arco Tipo di 10 Minuti Anche un po' di più Di 10 minuti A sbloccare 18 Nuovi brawler Quanto sareste felici Di cui due leggendari Differenti tra loro Due leggendari Mamma mia Cioè i due leggendari Sono una botta Pazzesca comunque E poi tutti gli epici I mitici I cromatici Che abbiamo sbloccato Signori Sto Posso dirlo Sto sculando Davvero tanto Oggi sto Sto strasculando Eccolo qua Il diciannovesimo Slash ventesimo Perché non so ragazzi Il counter a quanto sta Perché ho perso il cotto Come al solito Chi è Un altro cromatico Un altro cromatico Mamma mia Il cromatico Che figo Che fighi Che fighi 19 brawler 19 brawler Ma noi non ci fermiamo Ragazzi Perché Quando finiremo Queste Comunque Comunque ne apriremo Ancora delle altre Quindi rimanete Qui sintonizzati Per vedere Quanti brawler Troveremo Siamo al ventesimo Brawler 3 2 1 Abbiamo di nuovo Grom Un altro epico Non ci credo Non ci credo Grande Grom Grande Grom Mamma mia E il primo brawler Che troviamo doppio Tranne i rari Vabbè Credo di si Altro Ventunesimo brawler Di fila Let's go Jackie Non era mai uscita Jackie Questo box opening Ci sta Cioè Siamo per trovare Tipo uno di ognuno Qualcosa del genere 21 nuovi brawler Signori 21 2 1 21 nuovi brawler Assurdo Assurdo ragazzi Io continuo Io continuo ragazzi 21 nuovi brawler E qui Non cedo niente Non cedo proprio Siamo quindi A quota Non 88 Ma 87 Nuove Casse Perché qui Non c'è Una Ragazzi Mega box Prendibile Ok Abbiamo solo 60 gem Quindi Cambiamo account In questo account Supereremo Le nostre 100 Mega Casse Ritiriamo quella Gratis Signori 5 schifettini Inutili Let's go Allora andiamo avanti Quota 21 nuovi brawler 299 gemmettine Signori E si parte Si parte Signori Si parte Allora Non so in che punto Di questo Di questo box opening Supereremo le 100 mega box Ma stiamo Abbiamo già superato I 20 brawler Quindi ragazzi Sono super 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 Soddisfatto Chissà Se supereremo I 25 brawler Basterebbe Trovarne 4 Anche se I 4 Sono gli skip Che troviamo Quindi diciamo Che non è che Porta benissimissimo Questa cosa Ve lo dico Ve lo dico Signori Io continuo Che spacchettare Asperà Ok a una certa Frati Di pure Sbloccare Con qualche Brawler Dai Dai Abbiamo fatto Abbiamo fatto Il botto Finora 21 brawler E ne devo Prendere ancora Tanti altri Dai 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 Oh Sono almeno 10 che abbiamo Già aperte Raga Questo è un record Se non ne trovo Neanche uno Su 20 mega box Non trovarne neanche uno Potrebbe essere Anche questo Un record L'abbiamo trovato Ok 22esimo brawler Perché è un carn Molto easy Un carn Molto easy Che si sblocca Anche con il nuovo Brawl pass Attenzione 23 Subito lì Subito lì Subito Penny Signori Si è sbloccata la situazione 23 nuovi brawler Ok Dai Ne mancano Soltanto due Fra Soltanto due Fammi sognare 25 nuovi brawler 25 nuovi brawler Che sembra un meme Però forse potrebbe mancare Sare già 24 Non lo so raga Non ne ho idea Dai Dai Dammelo Dammelo Altri due brawler Sono altri due brawler Ti prego Dai 100 mega casse No non ci credo Guardate che faccio raga Guardate che pazzia Che faccio Mi vado a prendere Le ultime 10 mega casse In questo stesso identico account Soltanto per voi Vediamo se ci arriviamo Vediamo se ci arriviamo Signori Ok Chi li do È a caso A caso Non mi interessa Vai 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 Ok Let's go 10 Ok Subito un 6 Skip Signori Tutto per voi Tutto per voi 24 brawler 24 brawler Abbiamo ancora 9 mega box Per sperare nel 25 Per sperare nel 25 Siamo brawler A meno che io non abbia contato male Quindi già stiamo a 25 Quindi a quel punto sarà 26 Ma ragazzi Ecco un 6 skip Ecco un 6 skip Non ci credo 25 nuovi brawler 25 25 Signori Mamma mia Che sudata E 25 Raga Di qualità Di qualità Vediamo se troviamo qualcos'altro Attenzione Spero di no Perché il 25 Mi piace come numero Cioè mo Spero di no Cioè oddio Se mi viene Beh è buon per me Ovviamente Però non lo so Quante ne mancano Non lo so Quante ne mancano 5 skipettini scemi Attenzione Attenzione Siamo per chiudere a 25 E chiudiamo a 25 E casettina gratuita Per far capire Che qua non trovo più niente Ragazzi Ho spremuto Brostasa L'inverosimile Ci vediamo domani In un prossimo video Lasciate un bel like Ciao Ciao